Vai! Aziende create ad hoc per ottenere indebite e indennità di maternità o disoccupazione o per agevolare gli extracomunitari nella richiesta di permesso di soggiorno. 13 persone sono finite nella rete degli inquirenti della Procura di Nola in seguita a un'indagine della Guardia di Finanza di Ottaviano. Sette sono gli arresti domiciliari e sei hanno l'obbligo di firma. Tra loro ci sono un dottore commercialista e due consulenti del lavoro indagati per l'associazione per delinquere, truffa ai danni dell'Inps e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il gruppo, operante tra i comuni di Poggio Marino, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano, era dedito alla predisposizione e instaurazione di fittizi rapporti di lavoro finalizzati esclusivamente, spiegano in procura, al fraudolento percepimento da parte di lavoratori italiani di indennità da parte dell'Inps e all'ottenimento da parte di lavoratori stranieri del permesso di soggiorno. Molteplici le ditte fantasma create per raggiungere l'obiettivo fraudolento. Importante è stato il ruolo svolto dai consulenti del lavoro, i quali, grazie alle loro competenze tecniche, hanno creato le società fantasma, gestito i rapporti di lavoro e predisposto, grazie alla collaborazione e dei rispettivi studi professionali, le pratiche necessarie per garantire a centinaia di beneficiari le indennità da parte dell'Inps e i permessi. Nella rete sono finiti diversi collaboratori di studi professionali che procuravano clienti, tra questi alcuni soggetti di nazionalità straniera che vantavano e utilizzavano a tutto beneficio delle organizzazioni criminali i rapporti con intere comunità di cittadini bengalesi e cinesi, strumentalizzando a proprio profitto la loro necessità di regolarizzazione sul territorio dello Stato. Al termine dell'indagine, gli inquirenti hanno calcolato il rilascio del permesso di soggiorno a 500 cittadini extracomunitari, operazione che ha fruttato ai professionisti compiacenti un introito di circa 10.000 euro ciascuno. Per questo motivo il giudice per le indagini preliminare ha disposto il sequestro di beni e denaro pari a 650.725 euro.